Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior forno microonde. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo CMG 2071. Il forno a microonde da 20 litri e 700 W con funzioni grill e programma di scongelamento che ti permette di preparare i tuoi piatti preferiti in pochi minuti. Con il suo nuovo design, il microwave grill è ancora più compatto di prima, sta benissimo su qualsiasi tipo di piano di lavoro della cucina. Il blocco di sicurezza impedisce l'uso accidentale o l'accensione da parte dei bambini. Inoltre, l'interno è antiaderente e staccabile per una facile pulizia. Il forno a microonde con funzioni di grill offre una varietà di opzioni di cottura che ti aspettano, dal riscaldare nuovamente il caffè alla preparazione di cibi in pochi minuti grazie alla sua potenza di 1500 W. In questo modo, potrai gustare gustosi spuntini e pasti in poco tempo e sempre alla giusta. Numero 4. Samsung MC28H5015CS Il forno a microonde combinato Samsung MC28H5015CS, Smart Oven, 900 W, Grill 1500 è una combinazione di microonde e grill con caratteristiche che rendono la cottura facile e conveniente. La capacità di 1,8 piedi cubici fornisce lo spazio necessario per cucinare per un'intera famiglia in una volta. Questo forno a microonde Samsung ha un'elegante finitura in acciaio inossidabile che sembra grande in qualsiasi cucina. Viene fornito con un piatto di rosolature in modo da poter preparare cibo croccante dorato ogni volta, opzioni di cottura sana per aiutarvi a cucinare piatti gustosi e sani direttamente all'interno del forno a microonde e una serie di altre caratteristiche che rendono la cottura e il riscaldamento del cibo più facile che mai. Terzo posto c'è Samsung. Il forno a microonde Samsung Grill è un apparecchio di alta qualità, eco-friendly che viene fornito con una serie di caratteristiche per rendere la vostra esperienza di cottura migliore. Il forno ha una griglia che dà al tuo cibo una doratura uniforme, così come un rivestimento interno in ceramica per una facile pulizia. La modalità eco ti permette di ridurre il consumo di energia e di fare del bene all'ambiente. Il forno a microonde è dotato di un blocco per bambini e di una serie di altre caratteristiche di sicurezza. Il pannello di controllo rotativo è facile da usare e il display digitale assicura che tu possa monitorare la cottura mentre avviene. Tutto sommato, L-Samsung è una scelta eccellente per chi non può permettersi di spendere troppi soldi per il suo nuovo forno a microonde ma vuole comunque ottenere caratteristiche di alta qualità. Numero 2, CMW-2070M. Stai cercando un forno a microonde veloce e facile da usare? Non cercate oltre il forno a microonde Candy da 20 litri. Con Start Express Function, tutto quello che devi fare è selezionare il peso del tuo cibo o il tempo di scongelamento e il tuo microonde si prenderà cura del resto. E con una capacità di 20 litri, questo forno può ospitare piatti di dimensioni standard, risparmiando spazio prezioso nella tua cucina. Inoltre, il forno a microonde Candy è semplice da utilizzare grazie alla sua interfaccia meccanica rendendolo perfetto per chiunque voglia grandi risultati senza alcun problema. E ultimo ma la Start Express Function e i suoi sette programmi di cottura One Touch vi permettono di cucinare quasi tutto in pochi secondi avrai bisogno di due patate. Fine, il numero 1 della nostra lista Candy CMXG-20DS. Questo forno a microonde Candy CMXG-20DS con grill a 40 programmi automatici, così puoi sorprendere facilmente i tuoi ospiti o la tua famiglia. La combinazione di microonde e grill ti permette di cucinare tutti i tipi di pasti, mentre il programma di scongelamento si occupa di tutto il resto. La funzione Start Express è perfetta per chi va sempre di fretta, e il blocco di sicurezza garantisce la massima sicurezza in cucina. Le altre caratteristiche che rendono il forno a microonde CMXG-20DS Candy con grill così popolare sono il suo grande piatto girevole da 24 cm e i suoi comandi digitali Touch. Ti piacerà anche il nuovo display a LED, che è più luminoso di prima, e puoi anche regolare la luminosità in base al tuo umore. Il CMXG-20DS è disponibile in grigio argento o nero. Tieni presente che questo forno a microonde Candy richiede l'installazione da parte di un tecnico qualificato. Per sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.